Era davvero un'altra epoca, piena di fiducia nel progresso, quando si cominciò a costruire quelle ferrovie che oggi sembrano far parte da sempre del paesaggio alpino. Massicciate, gallerie, ponti in pietre e ponti in ferro, per vincere le asperità della natura senza mortificarla, anzi, per ammirarla insieme alle opere dell'ingegno umano. Successe così anche nelle Centovalli, che giusto un secolo fa si aprirono al mondo con una ferrovia che ancora oggi unisce Locarno a Domodossola, la Svizzera all'Italia. 53 chilometri di linea ferroviaria attorno alla quale scorre la vita degli uomini e ne accompagna le fatiche e le speranze, presenza discreta ma importante nei momenti bui della storia. Un piccolo treno, capace di aglietare le giornate di molti e, in qualche caso, lungo quei binari, persino di favorire l'amore. Un piccolo treno, capace di aglietare, Comincia qui, in un giorno quasi d'inverno, il mio viaggio sulla Centovallina. Mi invitano a scoprire il cosiddetto treno dell'Avvento, assieme alle famiglie che oggi affollano i due piccoli vagoni. Buongiorno a tutti, benvenuti sul treno storico che circola in occasione dell'Avvento e oggi abbiamo pensato di non solo farlo d'estate ma dare anche la possibilità di recarci da San Nicolau, Babbo Natale, chi per esso. Seguo Gian Giorgio Elbling, soprannominato il papà del treno storico, grande appassionato di tutto ciò che ha a che fare con la ferrovia. Ma in fondo, un appassionato dei treni lo sono anch'io e ricordo con piacere quando, da studente, prendevo la Centovallina per andare a Ginevra. Il treno storico è qualcosa di molto particolare, i rumori, gli odori, anche il ritmo con cui si viaggia, beh, è chiaro che è qualcosa che oserei dire quasi romantico, proprio d'un tono, è qualcosa di bello, ecco. Mi guardo attorno, stupito e ammirato, e non solo per la bellezza del tracciato tra le montagne. Cerco di capire come questa ferrovia abbia potuto sopravvivere quando, nei decenni scorsi, gran parte delle linee regionali, sia svizzere che italiane, vennero soppresse. Abbiamo appena lasciato le terre di Piedemonte, le dolci terre di Piedemonte, per inoltrarci nelle vere Centovalli, dove potete notare il cambio di tipologia di terreno che c'è. e qui in le montagne e la valle si stringono moltissimo. Camido, tutti scendono. Camido! 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 Auguri, buon Natale! Auguri! Auguri, auguri, buon Natale! Alla fine della giornata, ho l'impressione che questo treno non serva solo a far viaggiare le persone, ma riesca anche a nutrire dei sogni, sogni personali e sogni collettivi. Io sono nato e cresciuto i primi anni a Locarno. La Centovallina era qualcosa presente nel territorio. Io in mente che mia nonna doveva accompagnarmi alla stazione per vedere i treni e quindi vedere questo treno bianco e blu passare in città, sul lungo lago. Questo poi mi ha affascinato nel tempo fino a continuare, arrivare oggi a lavorare per una impresa ferroviaria. Ecco, quindi diciamo che il mio sogno si è avverato, ecco. FABUIO PRESTO Le luci della linda stazioncina di Camedo, ultima fermata in territorio svizzero, hanno qualcosa di familiare e di accogliente. Sembra strano, eppure ci si sente bene nel silenzio di questi luoghi, cullati soltanto dal lecco del fiume lontano. Il Natale è ormai vicino e questa notte tira proprio aria di neve. Il Natale è ormai vicino Il mattino dopo, la nevicata rende ancora più affascinante il mio viaggio e questa piccola ferrovia. Superato il villaggio di Camedo, entriamo in Italia. Proseguo in un ambiente fiabesco e apparentemente fuori dal tempo. Eppure si tratta di un importante collegamento internazionale tra l'Italia e la Svizzera. Questa ferrovia nacque un secolo fa da un'intuizione geniale di uomini lungimiranti. Unire la linea del Sempione a quella del Gottardo, con un collegamento trasversale attraverso le Centovalli e la Valle Vigezzo. Il 25 novembre 1923, con grande partecipazione popolare, autorità svizzere e italiane festeggiano il grande lavoro appena terminato. L'Europa acquista un piccolo nuovo gioiello, la Centovalli Railway. Dimmi il nome. Sono Davide. Ok. Davide, mi senti? Parai con me a andare? Sì, guarda che io da vendere non ho più niente, ho esaurito tutto. Sono arrivata alla Vigezzina che non ero più giovanissima. Il mio sogno era entrare in una compagnia aerea e sono finita in una compagnia ferroviaria. Alla stazione di Domodossola, Valeria è il perno di tutto, tanto cordiale quanto efficiente, e mi aiuta non poco a capire la realtà attuale di questa ferrovia. Buongiorno. Per Locarno? No, per San Maria. Ok. San Maggiore. Grazie. Velocco? Sì, sì. Qui il treno è in fondo? Sì, grazie. Quando io sono arrivata alla Vigezzina, vent'anni fa, si trasportavano soprattutto persone che si muovevano in Val Vigezzo, studenti, qualche frontaliere, ma non molto. Poi qualcuno ha pensato, ma perché non ci portiamo anche i turisti? E quindi è diventata una escursione di tutte le persone che vengono su Lago Maggiore a soggiornare. Trasportiamo tantissime persone da tutto il mondo che vengono a fare il giro della Vigezzina. Questo treno si chiama Vigezzina Centovalli. Significa che è un treno internazionale, perché attraversa la Val Vigezzo, attraversa le Centovalli. Non si poteva chiamare solo Vigezzina, non si poteva chiamare solo Centovalli. Studenti, pendolari, i passeggeri che vanno e vengono dalla Svizzera francese e poi molti turisti. Valeria ha proprio ragione e lo si vede bene nel mese di dicembre. Decido di salire su uno dei treni stracolmi che da Domodossola risalgono la Valle Vigezzo, attraverso borghi e villaggi dai nomi antichi. Masera, Trontano, Verigo. Paesi pieni di vita e paesi semiabbandonati. In questi giorni anche i treni provenienti dalla Svizzera sono affollati. La meta è la stessa per tutti. I mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, da anni tra i più famosi dell'arco alpino. Io la conosco questa linea da quando sono piccolina, perché vivo qua da tantissimo tempo. Ed è una delle più romantiche e più belle, assolutamente. Passando attraverso le montagne, attraverso le diverse stagioni, fruisci di tutti i colori, le diverse sfumature. Veramente bello. Dal punto di vista paesaggistico, veramente interessante. Poi puoi fare le tappe, scendi, risali, visiti i borghi. Ottimo. Cosa vuol dire romantico riferito a un treno? Romantico perché? Perché è il passo lento. È il passo lento che serve per profluire della bellezza vera delle cose. Che non va mangiata, non va spasmodicamente ricercata. Ci vuole del tempo per assaporare la bellezza. Quando salgo sul treno da Locarno, mi imbatto in una spensierata comitiva svizzero-tedesca. Il fascino dei confederati per questa ferrovia da sapore un po' esotico è evidente. Dalle palme del lago Maggiore a salire è tutto un susseguirsi di panorami suggestivi. E si racconta, ma la fonte è certa, che quando 40 anni fa si pensò di sopprimere la linea, a Berna e a Zurigo ci fu una mezza rivolta. Veniamo dal canton Soletta, da Egerkingen. E adesso andiamo ai mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Conosco questa regione. Tanti anni fa facevamo qui le vacanze in un rustico con i nostri quattro figli. Sono davvero posti molto belli. Scendevamo sempre fino a Intragna e poi risalivamo. Sono cent'anni che esiste questa ferrovia e spero ne duri almeno altri cento. Immagino che il mantenimento della linea non costi poco ed è per questo che mi auguro che possa continuare a vivere ancora per molto tempo. Tante gole in questo fiume. E poi questo treno è davvero fantastico. Insomma, una bella valle. È quello che penso anch'io. Adesso andiamo ai mercatini di Natale. Li ho già visti in Francia, Germania, in Svizzera. È la prima volta che vengo a vederli in Ticino. Il Ticino è nel mio cuore. Quasi senza rendercene conto, passiamo la frontiera tra Italia e Svizzera. Oggi solo un ponte, un bellissimo ponte in pietra che scavalca il riale e ribellasca. Attraversandolo non posso non ricordarmi che proprio in questi luoghi in passato vennero scritte pagine significative di storia. Era il 1944 quando i comandanti partigiani e le autorità della Repubblica d'Ossola, d'intesa con la Croce Rossa Svizzera, evacuarono migliaia di bambini per non esporli alle rappresaglie di nazisti e fascisti. Molti finirono a Briga e nella Svizzera interna. Altri vennero fatti salire sulla Vigezzina e poi sulla Centovallina per portarli a Locarno, ospitati fino alla fine della guerra da famiglietti cinesi. Oggi si passa di qua senza nemmeno sospettare di questi fatti apparentemente così lontani. La vita chiede a tutti momenti di serenità e in questa valle, oggi, di serenità, se ne può trovare in abbondanza. Prego, signori, riuscita. Prego. Prego. Sono qui da tantissimi anni. Lo facevo già quando ero piccola e da Domodossola fino a Suo Druogno perché è dove abbiamo la casa. Però anche oltre fino a Santa Maria perché è molto caratteristico, molto bello, molto particolare. Poi soprattutto d'inverno è tutto bianco, tutto nevato. Insomma, è una cosa che non trovi ovunque, è un trenino microscopico. Ci sono solo due carrozze, però mantiene viva la sua identità. L'anno nuovo comincia con un'altra nevicata. Sono nuovamente a Camedo, al confine. Fa freddo, ma l'ambiente è incantevole. La verina là, vedete che la giunta è isolata qui un attimo. Questa qui? Questa? Giazzata. Marco e Aris sono i guardia linea della Centovallina, lavoro antico che forse qualcuno immagina non esista nemmeno più. Ogni settimana percorrono a piedi la linea, da Camedo a Ponte Brolla, 14 chilometri lungo i binari, per accertarsi di persona che tutto sia a posto. Qui siamo al Ponte Ruinacci. Questa è una costruzione straordinaria, perché è tutto in ferro, c'è la dilatazione inverno-estate, e poi la costruzione è ancora tutta vecchia, cioè sono tutti, come si chiama? Rebatite. Rebatite. Rebatite in dialetto. Sono praticamente dei perni di ferro per giuntare due lamiere e poi vengono picchiati da entrambe le parti per fare in modo che si spiacciano dentro bene. Il bello è che sei fuori, sei nella natura, sei in un posto isolato. Dopo io in realtà sono un po' selvatico come persona, quindi penso che è quello che mi piace, mi piacciono queste zone. Stai dentro, eh? A fare il guardialina per me non mi dispiace neanche, un po' me l'hanno proposto quattro anni fa e all'inizio era un po' turbante perché non sapevo cosa andavo incontro, però adesso... Ma ogni tanto è bello anche fermarsi, guardare ferrovia, chiaramente, come prima roba, però anche era guardare la natura, il fiume, il paesaggio, la neve, è una bella sensazione di libertà. Tu sei nato in valle? Sì, io sono nato in Ensernone. Ho fatto le scuole a Comologno, dalla prima alla quinta elementare, uscivo da casa, facevo dieci metri e avevo la scuola. Era già comodo, eh? Qual è la situazione di queste valli? Allo spopolamento, ma purtroppo c'è. Io abitando in valle, ai tempi buoni, ma noi dovevamo restare su perché non c'era svago. Adesso vedo bene, i giovani partono, hanno già, non so, Locarno, ai miei tempi, ma io non la vedevo due volte all'anno, andavamo giù col bus o con mio papà. La ferrovia dà tanto perché non funziona la strada, il collegamento ferroviario è sempre stato in funzione. Quasi cent'anni, quindi ne hanno viste le fatiche, è peccato, bisogna mantenerla alla linea. ecco così, meglio, voglio cantare come inizio messa, Dio si è fatto come noi, eh, ti do il libretto che si deve, eh, ecco, campanaro, ora il terzo, ma poi chiudi quello un po', Siamo arrivati qui per vedere un bel quadro che una signora, mi ha regalato, rappresenta il paesaggio di Intrania con il campanile solenne, con lo sfondo del Ghiridone e poi l'ospedale e ai piedi dell'ospedale il treno della Centovallina. E ammiro sempre, è bello, nella semplicità, ma è bello, un po' naif anche per la gente, qui dal paese il treno fa parte, eh, dalla vita. Sì, è bello, è bello, è bello, è bello. È bello che si è visitato con il treno, lo sentiamo tutti i giorni, lo sentiamo, il passaggio livello suonare, anche nelle campagne di Tererio e Piena Monte dove è vivo, si sente il ding 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 delle barriere che scendono e il treno a cicolare. Quindi è una presenza costante, è una bella presenza e siamo attaccati e molto affezionati al nostro trenino. Una casa per anziani che si affaccia sui binari di una ferrovia. Altrove potrebbe essere considerato un grave disturbo. Qua proprio no. Me lo dice Stefano Efti, il direttore. E anzi, aggiunge, gli ospiti spesso chiedono una stanza con la vista sui paesi della valle e amano vedere il treno che passa e che fa parte della loro memoria. Così ha voluto anche Don Tarcisio Brughelli, prete da ben 65 anni, una vita intera spesa da una parrocchia all'altra. Fino a quando non venne destinato alle terre di Pedemonte, parroco di Tegna, Verso e Cavigliano, dove si legò per sempre a questa terra e al suo treno. Oggi risiede anche lui nella casa per anziani di Intragna, ovviamente con vista sulla valle e sulla ferrovia. Prima passavamo più di rallo, adesso invece più di ferrovia. Adesso sta arrivando uno sulla piana tra Cavigliano e qui. La tratta di ritta, di ritta. Chiari? Ecco, sentitela là. Ecco, si abbassano le barriere, le macchine rio lì e si bloccano. Il treno è già uscito dalla galleria, adesso attraverso il ponte, un ponte di ferro stupendo. Io vedo proprio lì e vedo il macchinista, quanto il guarda, buon viaggio, guida bene. Tante volte è pieno, è pieno da voi, dammo, sa dire. Vuoto, in certi momenti invece c'è tanta gente. Poi vedo fuori bene, la Cavigliano, Verso e Tegna, questa antanna. E' bello. Sarum. E' il trappetto. E' subito, fai che è bassa, sa scatto di verde. Ma in questi giorni è nata un'idea, parlando con l'architetto Stefano Pelfini, e discutendo così, siamo un po' tutti appassionati di ferrovia. L'idea è di riportare a casa un vagone che attualmente si trova a Domodossola, riportarlo ad Intragna, affinché possa avere una funzione utile alla casa per anziani. Stefano Aefti mi spiega che nella casa delle Suore verranno creati 12 appartamenti protetti, mentre un antico vagone della Centovallina, collocato in giardino, permetterà di creare un luogo della memoria favorevole ai malati di Alzheimer. Un progetto pilota, almeno per il Ticino. In questo giardino, oppure nel giardino del reparto Alzheimer, verrà posato il vagone della Centovallina, quello che attualmente è a Domodossola, verrebbe posato su una massicciata, quindi con dei binari veri. Il vagone avrebbe la funzione di collegamento tra noi e la scuola, potrebbe diventare un luogo di terapia, un luogo di incontro, un luogo anche di gioco e anche a livello simbolico cimentano in qualche modo quello che è il rapporto tra la casa per anziani e la ferrovia delle Centovalli. E dove lo mettereste? Lo metteremmo qua, oppure nell'altra parte del giardino, non lo sappiamo ancora. Arrivano e partono presto, il mattino. I treni alla stazione di Locarno-Muralto. Scendono carichi di pendolari che lavorano in città e ripartono con quei pochi passeggeri che a quell'ora salgono in valle. Mi rendo conto che per le terre di Pedemonte la Centovallina è davvero come una metropolitana. non si tratta solo di turisti. La funzione di servizio pubblico è fondamentale per il presente e il futuro di questa ferrovia. Arrivato a Camedo, il treno torna immediatamente indietro. Mi imbatto in una pendolare illustre. Si tratta di Corinna Vitale, da anni direttrice artistica della scuola Dimitri. Vive a Camedo e ogni giorno scende fino a verso dove lavora. Questo tratto qua c'è qualcosa di molto calmo. È un momento che posso stare per me, posso lavorare o no, posso guardare fuori. In generale il treno per me significa viaggiare e a me mi piace tantissimo viaggiare. Anche viaggiare non sempre veloce in aereo, saltare da un punto all'altro, ma di passare un paesaggio delle culture. Dimitri abitava a Kadazza e aveva una specie di collina dove poteva ritirarsi, aveva un grande giardino. Doveva solo scendere una piccola strada a fare alcuni passi e poi prendere la scala giù alla stazione. Lui prendeva il treno soprattutto quando andava in tournée perché così veniva con il treno giù a Verso, poi c'era il tecnico e partivano insieme nel mondo. Fermata richiesta. Alt, offer lange. Verso. Non ti ho dimenticato. Ok, va bene. Ci chiamo. Ciao. Ciao. Dimitri ha fatto un film su questo treno come capostazione di Camedo e penso che a lui piacevano tutte queste azioni che un capostazione fa durante la giornata. In realtà, ciò che oggi resta è solo un breve filmato di dieci minuti dove Dimitri recita, alla sua maniera, come capostazione di Camedo. Avrebbe voluto farne un film intero, ma non fu possibile. Alla fine ci rimase male perché il ruolo di capostazione lo attirava e gli piaceva moltissimo. Ho contattato diverse persone per chiedere dove si trovava questo film Capostazione Molinari. Adesso vediamo. Questi link non sono proprio questo film, però sono dei filmati in quale si trova un pezzo di questo film. Adesso devo chiudere questo dossier qua. Ti voglio dire, ho ricevuto questi ieri e non avevo tempo di guardarli. Lo faccio grande? Alla fine. Dimitri è sempre stato bravissimo. Tutto quello che ha fatto era sempre molto curato. Lui teneva di essere molto preciso, aveva un buon ritmo come attore. Era sempre veramente bello, anche qui. Anche le idee trovo bellissime. Pulire i binari con un aspirapolvere fatto a posto per i binari. Queste idee sono molto belle. Penso che le centovali sono stati per Dimitri una specie di rifugio. Penso che a Dimitri piacevano anche le piccole cose. E la centovalina in questa valle è piena di piccole cose. Nel senso la stazione, le stazioni sono piccole, i treni sono piccoli, i binari sono piccoli. E io penso che questo a lui è piaciuto molto. Ticket. No ticket. Ticket. Please, ticket. No, please, ticket. No. 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 No, ppon. No. 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 giornata meravigliosa. La luce di luglio inonda ogni cosa e i boschi delle centovalli appaiono addirittura lussureggianti. Basta osservare i volti e i gesti della gente per capire il fascino che prova chi viene da nord o da altri mondi di fronte a questi paesaggi. Andiamo a fare un'escursione in montagna verso il Monte Comino e poi rientriamo a Intragna. È il motivo per cui siamo su questo treno. Sì, esatto. Il mito è la realtà del sud. Oggi qui tutto si unisce. In primo luogo penso che in Ticino c'è più sole che in Svizzera interna. Questo di sicuro. La natura è completamente diversa che da noi. Qui la natura è così rigogliosa e passeggiare qua è meraviglioso. Sì, spettacolare qui la natura. È una nostra abitudine. Appena possiamo veniamo in Ticino per fare escursioni in montagna. della segna la chiesa silente. Abbandona lo stress e la fretta. Qui puoi bere una fresca sorgente. se ti muor non avrai della strada puoi salire sul pizzo Ruscada. ritrovo Ares Ramelli mesi dopo averlo seguito nel controllo della tratta. È davvero un ragazzo volonteroso e dinamico e oltre a fare il guardia linea è anche macchinista della locomotiva di manovra. Verrebbe da dire che il lavoro è sempre lavoro, soprattutto in una valle dove scarseggia. Fare il macchinista è sicuramente interessante e anche quello somiglia a monotono ma per noi non è monotono perché è anche molto variato. Passiamo dal trasporto di materiali semplici che siano delle palette per il rinnovo binario al trasporto della ghiaia. Di notte viene fatto questo rinnovo binario, vuol dire portare via la ghiaia vecchia, mettere quella nuova, cambiare le traverse in ferro e di seguito le rotaie. È proprio vero che si impara sempre. Seguire Ares nel suo lavoro col locomotore, su e giù tra Intragne e Ponte Brolla, mi fa conoscere aspetti che non avevo mai saputo del mondo della ferrovia. La manutenzione della linea è un grande impegno e richiede a tutti attenzione di responsabilità. Allora, nasce con il trattore, fino ad entrare, porta sui vagoni pieni da Gerard è sempre un'emozione, passare sul ponte Ruinacci perché ti c'è comunque un veicolo che pesa 21 tonnellate, una piattina davanti che la farà 4 o 5 tonnellate e comunque i vagoni da Dre, a sempre parlare da circa 15 tonnellate in più e quindi ti c'è un bel peso alla porta sui. La prima volta che si passava su quel ponte era comunque un po' in sci perché l'era emozionante, mentre adesso ormai ti vesti più tranquillo. Perché l'era emozionante? Eh, perché appunto ti vedi che questo ponte, questa struttura in ferro, un ponte che ha 100 anni, ti vesti con un peso in sci e alla fine la vorrei fare in ordine da in una smiccia. La costruzione della Gentovallina è stata un'impresa titanesca si potrebbe dire per le nostre latitudini. Ha coinvolto un numero impressionante di operaio, di tecnici che per un decennio lavorano a questa costruzione. Titanesca. Mi colpisce molto il termine scelto da Mattia Dallagana per definire la costruzione di questa linea ferroviaria. Un lavoro enorme, soprattutto per le abitudini locali e che si scontrò con una geografia aspra e impegnativa sia per gli ingegneri che per gli operai. Tra Locarno e Domodossola lavorarono 4.000 operai con strumenti che a noi oggi sembrano rudimentali. E' un'impresa chiamato per gli ingegneri che a noi sono in un'impresa La ferrovia in cento anni ha delle fortune alterne, come sempre succede, ci sono periodi fausti e periodi più bui. Il Rironina della Sorte è stato l'evento forse più drammatico che ha rilanciato la ferrovia assicurandogli poi un futuro. Nella notte del 7 e l'8 agosto del 1978, la regione è colpita da un alluvione che provoca dei danni importantissimi, chilometri di linea che sono distrutti, tantissimi ponti che vengono distrutti dalla forza dell'acqua. E in questa situazione, soprattutto la Valle Vigezzo è completamente isolata e tagliata fuori, grazie alla ferrovia che nei primi chilometri a risalire da Domodossola, con uno sforzo molto importante ma in pochi giorni, può essere ripristinata, la gente si rende conto come la ferrovia abbia una sua importanza. Persa la strada, la valle ha comunque una sua linea ferroviaria che per svariati mesi serve per trasportare dentro e fuori valle tutto il necessario per permettere alla vita di continuare. Basta evocare il nome di Plinio Martini per ricordare la durezza della vita del passato nelle valli dell'Ocarnese. La miseria, la retratezza, la vita grama. Per le cento valli l'avvento della ferrovia nel 1923 sarà un fattore di progresso decisivo. Le toglierà da un isolamento secolare e contribuirà alla crescita del benessere. Così come le funivie, che rendono finalmente accessibili paesi dove un tempo si arrivava solo a piedi. Dagli anni Sessanta del secolo scorso, persino le valli più discoste sembrano animarsi di una vita nuova. E la ferrovia sarà importante anche per l'immagine della valle che riesce a trasmettere, carica di una positività e di una spensieratezza mai viste prima. Oggi che gli antichi mali sono sconfitti, prima di tutto il lavoro minorile, un altro male, più sordo, persino silenzioso, sembra avvolgere i paesi dell'Alta Valle. Lo spopolamento. La gente che lascia questi paesi e che ci viene solo per vacanza per pochi giorni all'anno. Cent'anni dopo, la ferrovia resta ancora al suo posto. Oggi non più per portare il progresso, ma per assicurare che un servizio pubblico così efficiente può aiutare la vita di questi paesi. E talora la favorisce in modi persino sorprendenti. C'era il treno del circo, almeno noi lo chiamavamo così. E' lontano, 1974. Ecco, ci siamo incontrati lì andando al circo. Cioè tu eri già su nel treno e io sono salto su in Tragna, dopo ho visto questa cosetta che l'avevo già vista da qualche volta in Cilicam, senti già compagnia insieme. E da lì è andato tutto. Quando ci siamo conosciuti sul treno io avevo 15 anni e io ne aveva 21. Una storia d'amore è nata sul treno? Abbastanza travagliata da parte della mia famiglia, che non l'accettavano da buon grado, però boom. Però dici, ora noi abbiamo un break ben al treno anche perché ci ha legato il treno e noi dobbiamo legarci al treno. Ci siamo sposati, abbiamo fatto di testa nostra, abbiamo avuto tre meravigliosi figli e adesso siamo nonni. La storia d'amore tra Ivo e Laura, nata su un vagone della Centovallina, è stata una sorpresa, una bella sorpresa. E mi fa dire che lungo i binari di questo treno scorre davvero la vita. Avevo conosciuto per caso Ivo Maggetti una sera in una osteria a Ponte Brolla. Animava una serata con la sua fiesarmonica. Un uomo con una passione forte per la musica popolare e che fa su e giù per le Centovalli, chiamato ovunque ad aglietare serate e feste. Partendo sempre da Corcapolo, dove vive con Laura sotto i binari della ferrovia. Ma la passione proprio si può dire che mi è la passione per la musica, quel sempre l'aiuto perché il mio padre è musicista, ha sempre suonato il mandolino, il fai fa, la festa, eccetera. Il mio preferito suonare la fiesarmonica perché trovi che l'istrumento si è completo. La fiesarmonica è un'istrumento che piace tantissimo anche alla gente. Io vedi proprio il piacere che c'è. Bevi, bevi tranquilli. Bevi. Va un po' personalizzato. Sì, sì. Bianco o rosti? Va bene al bianco. Bianco e tre perle. Bellissimo, bellissimo. Salute, salute, salute. Salute, salute. Allora, fermo la canzone di Cenvai. Bella fanciulla che in centovallina ogni mattina ti rechi in città. Ma la centovallina per me fa parte un po' della nostra vita, ecco, perché noi siamo qui, c'è il ponte sopra, ci accompagna sempre e quando passa ci fa compagnia nel bene e nel male. Il treno è una cosa e la strada e il bus è un'altra. È una nostra compagna di viaggio. Io non vedrei Corcapolo senza l'accentovallina. Io non vedrei Corcapolo senza l'accentovallina. Come ti dico, è vita. Io saluto le persone, mi fanno ciao dal treno. È un interagire con delle persone che non conosci. Cioè, mi fa piacere questa cosa. Mi piace anche il rumore che fa. Mi rilassa praticamente. Lo trovo un po' come un mantra. Quando il trenino al paesino ti riporterà C'è chi ti aspetta felice nel corso Canta l'amore che attende sempre Per me sei come un fiore Sbocciatola tra i monti Siamo alla fine di ottobre E per questa ferrovia È un momento straordinario I colori dell'autunno Trasformano il paesaggio in una tavolozza varriopinta Che sembra immergere il treno in un altro mondo Attraversiamo boschi di faggi Larici, castagni Come fossimo in una fiaba Accompagno Stefano Efti Il direttore della casa per anziani di Intragna Fino a Domodossola Va per un sopralluogo Al famoso vagone che vorrebbero collocare Nel giardino del ricovero Non è così facile capire Come possa un antico vagone della Centovallina Servire per i malati di Alzheimer Eppure le esperienze fatte in questo contesto Sembrano molto positive Ciao Stefano Ciao Come va? Un viaggio? Sì, posto, posto Perfetto Andiamo all'altra Il nostro vagone Questo è solo il deposito O fate anche la manutenzione qua? Lo deposito e manutenzione Perché la diciannovesima C'è una fossa Che ci può stare dentro il panoramico Il massimo di composizione Sì Allora qua il nostro amico Eccolo qua 120 Un po' di graffiti E vabbè L'importante è che sia 120 era quello di prima classe Possibile Possibile Proprio mantenendo Il discorso è solo i passaggi Per le sedie a rotelle È ben conservato Non c'è umidità Le cappelliere Le cappelliere, le tendine E ancora tutto nella sua originalità Legno Allora questa qua È da un ufficio numero 16 Poi dietro abbiamo la 18 E in fondo la 17 Poco più in là Quasi nascosti in un angusto deposito Si trovano anche i locomotori originali Del 1923 Quelli dell'inaugurazione della linea Giusto un secolo fa Vedo che il viaggio ritroso Nella memoria Personale e collettiva Tocca anche i presenti La memoria di tutti Nasconde ricordi Che sembrano sepolti dal tempo E invece Da loro basta un niente Anche solo un vagone antico Per riportarli alla luce Un giorno di emozioni oggi Caspita Finito il sopralluogo Domodossola Riaccompagno Stefano Efti In Svizzera Questo treno Mi è ormai diventato familiare E quasi mi spiace Terminare il mio viaggio Ho capito che la Centovallina Non è solo un piccolo treno di valle È molto di più È un collegamento internazionale importante È un motore fondamentale Per la vita e l'economia Delle due valli che attraversa E soprattutto È nel cuore della gente Che vive in questi luoghi E per la vita e l'economia È un montaggio in questo luogo Ti ralassionale Per la vita e le valli che attraversa E in questi luoghi Per la vita e le valli che attraversa E in questa sottola Este luoghi E il luoghi E in questi luoghi E in questo luoghi E' un'altra cosa. E' molto contenta di avere fatto questo viaggio nel tempo e nello spazio in compagnia di Gianluca Favetto. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Che è uno scrittore, un poeta innamorato della letteratura e mi viene da dire, anche avendo ascoltato diverse sue conferenze sul tema, anche dei treni in qualche modo. Perché treni e letteratura sembrano un po' prendersi per mano. Questa sera secondo me l'abbiamo visto molto bene. Come mai? Perché il viaggio e lo scrivere sono la stessa cosa. Allora il viaggio uno, io lo penso a piedi.